Finalmente è in vendita, finalmente Nino D'Angelo live su cd e dvd, concerto anni 80 e non solo, un tour spettacolare che ha girato l'Italia, racchiuso in due ore di magia, canzoni e luci. Chiara ti ricordo piccolina, chiara che cantava per le scale, chiara con le dita dentro il naso chiara. Nino D'Angelo, il nuovo cd e dvd live, concerto anni 80 e non solo. Finalmente per tutti i fan, il regalo di Natale, il regalo di Nino D'Angelo su cd e dvd, concerto anni 80 e non solo, il live in vendita in tutti i negozi specializzati e i digital store. Nino D'Angelo, la storia sul palco è in casa tua.